Ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino Stato connivente o stato colluso? Entrambi secondo me, dipende dalle situazioni, dipende dai luoghi Talvolta connivente, talvolta colluso, sicuramente non nella posizione migliore Ultimamente si parla del fenomeno dell'andrangheta al nord Anche in tali casi si assiste ad un rallentamento della pianificazione territoriale come al meridione? Più che di rallentamento c'è una direzione che avvantaggia alcuni soggetti Quindi non è avvantaggio di tutti La pianificazione nasce per dare delle regole di uso del territorio Perché di questo se ne possano beneficiare tutti gli abitanti Non i soliti forti poteri criminali Grazie